L'entusiasmo di centinaia di bambini e ragazzi in festa ha accolto Papa Francesco nella parrocchia di San Piero Damiani a Casal Bernocchi, periferia sud di Roma. Sotto il sole di una domenica pomeriggio i piccoli del catechismo hanno donato al loro vescovo per la quindicesima volta in visita ad una comunità della diocesi un volume con i loro disegni e le loro domande, alcune espresse poi a voce. Come possiamo aiutare Gesù a salvare il mondo? Con la preghiera, ha risposto il Papa, con la vostra gioia ma anche rispettando le persone, anche quelle che non vi vogliono bene, pregando per loro come anche per i genitori che si sacrificano per noi. Infine ha confidato ad un piccolo calciatore di non essere stato bravo col pallone da ragazzino e per questo di solito facevo il portiere. Dopo l'incontro con altre realtà parrocchiali, Francesco ha celebrato messa nella chiesa della parrocchia che festeggia 50 anni di fondazione e ha come titolare il cardinale vicario Agostino Vallini, commentando a braccio il Vangelo di Giovanni sull'imminente discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, il Pontefice ha sottolineato che lo Spirito è anche in noi, dal battesimo e non va rattristato. Abbiamo dentro Dio stesso, il Dio che ci aiuta a non sbagliare, a non scivolare nella tentazione e lo Spirito ci parla con dolcezza e rispetto. Questo può aiutarci a noi a pensare come è il nostro atteggiamento dei cristiani. È un atteggiamento di dolcezza o di ira o amaro. È tanto brutto vedere quelle persone che si dicono cristiani, ma sono piene di amarezze. Con dolcezza. Il linguaggio dello Spirito Santo è dolce e la Chiesa lo chiama il dolce ospite dell'arma. Perché lui è dolce, ci ha dolcezza e rispetto. Sempre rispetta gli altri. Ci insegna a rispettare gli altri. Per questo, ha concluso il Papa, il diavolo cerca di indebolirci, insegnandoci le chiacchiere, le maldicenze, la competizione che fanno allontanare chi si avvicina alla fede. E sono il peccato più comune nelle nostre comunità cristiane. Preghiamo la Madonna che ci aiuti a custodire lo Spirito come ha fatto lei, agendo con dolcezza e rispetto. Grazie a tutti.